Tutto quello che posso fare è dirvi che sono immensamente felice di essere qua insieme a voi questa bellissima serata. Purtroppo sono felice di avere la voce perché sono due giorni che a Roma si muore per cui è un regalo anche questa bellissima aria fresca di Locarno perché dovunque si vada a Roma si muore di aria condizionata e io ieri e l'altro ieri praticamente non parlavo.